la prima di iniziare a parlare di arti marziali e di giodo in particolare che poi è l'argomento di oggi vorrei un po scoprire e far scoprire a chi ancora non ti conosce che è strano però magari i giovani chi è chi sei cosa fai nella vita qual è la tua professione e tutto ciò che vuoi condividere con noi circa la tua vita privata ancora prima di entrare nel mondo delle arti marziali prego ok va bene ok allora io sono un ragazzo di 63 anni cioè sono nato nel 1957 quindi sono nel pieno della giovinezza e vivo di arti marziali nel senso che il mio lavoro tempo addietro decisi che dovrà essere l'insegnamento dell'aikido nel senso che quella fu la scelta che mi portò diciamo così all'attività lavorativa legata alle arti marziali nella mia vita precedente prima di diventare un professionista di aikido sono stato fotografo nel senso che per mia fortuna ho sempre potuto seguire le mie passioni nel senso che a parte i lavoretti che si facevano che facevo fatto nel momento in cui frequentavo l'università piuttosto che i primi lavori saltuari il primo lavoro serio impegnativo che è durato negli anni fu proprio quello del fotografo fotografo pubblicitario quindi non non matrimoni nel senso che per carità rispetto quel tipo di lavoro ma il mio il mio ambito era quello della fotografia pubblicitaria fotografia pubblicitaria industriale e legata a input che arrivavano dalle agenzie pubblicità pubblicitarie quindi avuto occasione di lavorare per galop piuttosto che altre aziende in virtù di assistente prima e poi in virtù di fotografo professionista poi io a proposito di questo solo indiscrezione ovvero che già all'epoca ti chiamavano maestro tutte le persone che dovevano comporre il set di luci di foto di macchine questo 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 è vero fino a un certo punto diciamo che nell'ambiente della fotografia nell'ambiente della fotografia quando lavori negli studi fotografici cioè nei grandi studi cioè quando magari hai un set di automobili piuttosto che c'è qualcosa che non puoi fare nel tuo studio ma non leggi studi non leggi uno studio esterno e vai a capitare in uno studio qui appunto dove appunto normalmente si fotografano auto e dove tutti gli assistenti sono abituati a che fare come con i fotografi per dare una mano per mettere le luci nella posta di qui nella posta di là ecco tutte queste persone qua hanno la tendenza a chiamare il fotografo protagonista maestro ma io ho sempre capito che c'era una sottile presa in giro in questa cosa qua e anzi l'apprezzo molto la presa in giro da questa vista qua perché una cosa che balza gli occhi quando sei nell'ambito fotografico è che queste persone questi cosiddetti assistenti che sono le tue dipendenze in realtà ne sanno tanto quanto te a volte di più quindi il chiamarti maestro è veramente una presa in giro questa idea di presa in giro me la tengo sempre dietro perché serve anche adesso nel senso che comunque raramente qualcuno mi chiama maestro né per l'aikido né per le altre discipline che in qualche maniera mi porto mi mettono nel ruolo dell'insegnante ma quando mi sento chiamare maestro sotto sotto dentro di me c'è la voce che mi dice ti stanno prendendo in giro e va bene così sono nel mondo delle arti marziali assolutamente non è vero se un maestro assolutamente dichiarato certificato e apprezzato soprattutto sicuramente sicuramente come dire non sono modesto so di avere competenze dopodiché il termine maestro è un termine che lascia anche un po' il tempo che trova in alcune occasioni il termine giapponese da questo punto di vista qua si addice di più alle nostre attività no? cioè il sensei cioè quello che è arrivato prima che è arrivato lì ha cominciato prima sostanzialmente avendo cominciato prima è l'artigiano che deve trasmettere qualcosa a quelli che sono i suoi garzoni ecco noi abbiamo sostituito al garzone l'allievo e all'artigiano il maestro in Italia noi abbiamo questo vezzo del maestro in tanti campi però forse a volte un po' troppo un po' troppo enfatizzato va bene sempre continuando sulla tua vita privata ancora prima delle arti marziali la vita privata a un certo punto a un certo punto poiché già insegnavo Ikido praticavo Ikido da tanti anni nel momento in cui il lavoro da fotografo minacciava di cambiare radicalmente con l'avvento della fotografia digitale e messo nella condizione di dover decidere cosa fare cioè se dedicare più tempo all'insegnamento che mi stava occupando già allora cinque sere alla settimana e quindi mi rubava tempo alla fotografia e la fotografia che comunque in qualche maniera si stava trasformando snaturando un po' quel che era un po' il senso che mi aveva spinto a occuparmi di quello ho fatto l'azzardo e ho fatto bene nel senso che comunque la fotografia via via si è trasformata in qualcosa molto poco creativa soprattutto io parlo in ambito commerciale nel senso che in ambito dilettantistico di amatore uno può fare esattamente quello che vuole però quando uno è abituato a sentirsi dare un input e dire senti questo è il prodotto ambientalo, abbi delle idee, io ci metto le mie nel senso che l'art director ha delle sue idee e cerca di farti capire cosa vuole lui e tu comunque la interpreti e quindi c'è tutta una componente creativa che coinvolge un'equipe nel senso che sei tu, l'art director magari altri elementi dell'agenzia pubblicitaria piuttosto che ma tutto questo fa sì che comunque poi alla fine puoi dire che sia un prodotto di tipo creativo nel momento in cui ti si dice no ma fammi uno scatto che poi ci pensiamo in Photoshop piuttosto che in post produzione informatica questa roba qua cominciava a non interessarmi più senza contare che significava dover rinvestire completamente in tutto attrezzatura vi discorrendo a quel punto non avendo più come dire il senso di far qualcosa che poteva in qualche maniera catturarmi, ripeto ho cominciato per passione e avendo quest'altra cosa che premeva cioè l'insegnamento delle arti marziali come cosa che stava diventando sempre più esigente dal punto di vista del tempo, del mio tempo ho fatto questa scelta inizialmente è stato un salto nel buio devo dire che comunque invece la cosa ha dato i suoi frutti a parte questa grande parentesi del Covid che mi vede completamente fermo da quel punto di vista però per fortuna come dire le relazioni che ho nel mondo dello sport mi hanno dato la permessa della possibilità di comunque trovare un lavoro tra virgolette tra quattro pareti che mi permettono di poter comunque occupare di sport ma non dal punto di vista della mia pratica questo è il momento, questo è quello che succede in questo momento per cui diciamo che mi manca molto lo spazio della pratica però per fortuna non è qualcosa che sta minando la mia capacità di essere produttivo dopodiché sempre parlando del privato sono sposato, ho un figlio di 7 anni Edoardo che ormai è un ometto è un ometto che allora Alessia Alessia mi accompagna di vita è una praticante e insegnante di Naginata in realtà aveva cominciato con l'Aikido poi ha praticato Yaido tutte cose che in qualche maniera ha continuato fin quando possibile diciamo che comunque quella per la quale l'attività per la quale è stata più coinvolta è stata la Naginata della quale sicuramente è una delle pioniere in Italia non assoluta nel senso che comunque Umberto Bino per la Naginata in Italia è stata sicuramente la prima figura di rilievo però penso di dire una cosa giusta se dico che Alessia è sicuramente dal punto di vista della storia della Naginata in Italia l'altra persona che ha avuto un grandissimo rilievo anche lei ovviamente è bloccata Edoardo giustamente si dedica ad altro Edoardo ha 7 anni ma non è vero perché ho visto un sacco di foto di Edoardo con la spada e il Gio in mano oppure a fare presciuti teme che ti metteva al tappeto sul tatame certo 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 però diciamo che dove si impegna è il nuoto e adesso da quest'anno l'Ocari che però anche per lui è momentaneamente sospeso questo è quello che riguarda la vita privata abito in Piemonte abito a Sangano vicino a Torino Sangano vicino a Torino ci siamo trasferiti qui qualche anno fa adesso non ricordo bene ed è una situazione che mi confà perché soprattutto con un figlio l'idea di in questo periodo soprattutto non essere bloccati nella propria situazione tra quattro mura significa molto qui basta fare uscire di casa che sei nei prati nel verde questo è quanto è giusto per le classiche domande che si fanno su una video intervista che vuole essere anche simpatica tre aggettivi che ti definiscono? sono quelle domande alle quali uno non sa mai come rispondere però ci troviamo allora tendenzialmente io sono un orso nel senso che però non è un aggettivo comunque diciamo che la caratteristica che sta dietro è un po' questa poi ostinato appassionato ecco direi appassionato perché comunque le cose che ho fatto le faccio per passione e non saprei cos'altro dire su di me nel senso che non lo so va bene cambiamo proprio al piano dici qual è la prima cosa che fai al mattino e l'ultima cosa che fai prima di andare a dormire la sera la prima cosa che faccio al mattino è preparare la colazione per tutta la famiglia nel senso che comunque questa è la cosa che faccio in tempi normali e in tempi come questi perché comunque una routine c'è sempre Edoardo va a scuola per fortuna essendo alle scuole elementari in seconda elementare può andare a scuola e questo è una grande cosa per lui soprattutto che comunque ci rendiamo conto di quanto patisca questa situazione e quindi al mattino è un po' lui che determina i ritmi quindi la colazione è per tutti io sono molto mattiniero normalmente mi sveglio da solo senza bisogno della sveglia e poi appunto accompagno il pargolo e poi mi occupo di quelle che sono i miei attuali i miei attuali impegni la sera poiché comunque sono fuori tutto il giorno e ho attività di relazioni perché comunque parlo con società sportive parlo con dirigenti dell'ente per il quale sto lavorando la WISP e tutte le cose che in qualche maniera sono connaturate con questo tipo di cose quindi devo parlare molto devo stringere relazioni la cosa che preferisco di più è il silenzio quindi per carità mio figlio, mia moglie sono le persone con le quali ci mancherebbe soltanto o comunque tutta la voglia e l'intenzione di colloquiare parlare delle cose che caso e mi discorrendo però tendenzialmente la sera è il relax quindi relax per te vuol dire meditazione visto che hai parlato di silenzio film no oppure lettura un bel libro allora no tendenzialmente tendenzialmente la televisione ha ancora alcune cose che comunque mi interessano nel senso che tutto ciò che è approfondimento culturale e politico mi interessa nonostante che io non abbia una vita politica attiva comunque sono interessato a quello che accade intorno a me quindi tutto ciò che è approfondimento politico io tendenzialmente lo seguo e poi se mi piacciono le serie televisive quindi film serie televisive ma in quel caso ecco in quel caso lì sono più sul disimpegno cioè devono non essere troppo troppo impegnati nel senso che quei tempi lì io ero uno che appassionato di cinema molto appassionato di cinema quando ero giovane allora c'è da dire che la mia storia da questo punto di vista qui è particolare nel senso che comunque io da bambino volevo fare il chimico e quindi i miei studi sono iniziati indirizzati alla chimica in quanto comunque ho frequentato e mi sono diplomato come perito chimico all'interno di quell'esperienza alcune varie riflessioni mi hanno fatto comprendere di quanto la scienza non fosse neutrale e mi sono iscritto a filosofia quindi ho fatto il salto proprio più incredibile non ho terminato la facoltà di filosofia devo dire nel senso che comunque sono stato catturato dal mondo del lavoro perché ho cominciato con la fotografia vi discorrendo e in qualche maniera anche un po' di crisi di vocazione rispetto a quello che era uno dei possibili sbocchi della università cioè l'insegnamento perché comunque mi muoveva l'idea di essere comunque come dire interessato e coinvolto nel mondo dell'insegnamento le prime esperienze che ho fatto nel mondo della scuola non mi hanno dato molta soddisfazione e infatti le ho abbandonato ho ritrovato l'insegnamento con le arti naziali quindi evidentemente una vocazione ad insegnare c'era però evidentemente dovevo trovare l'ambiente giusto e quindi questo è quello che è un po' successo però mi interessavo molto di cinema in quegli anni ed ero capace di uscire da un cinema ed entrare in un altro oppure ricordo come ho passato un'intera giornata al museo del cinema di Torino a vedermi non so quanti film russi in lingua russa con i sottotitoli in francese questo per farci per farci un'idea però oggi se devo guardare film devo ammettere che sono un pochino di disimpegno ho bisogno di rilassare di staccare un po' va bene sull'insegnamento poi ci ritorniamo perché posso testimoniare in prima persona che sei un gran bravo insegnante e questo non lo dico solo io è assolutamente però appunto veniamo alle arti marziali ci racconti un attimo visto che non pratichi solo giodo non insegni solo giodo ma sei un maestro di arti marziali 360 gradi quali sono le discipline che pratichi e che risultati hai raggiunto che gradi hai raggiunto certo allora io diciamo che mi sono avvicinato alle arti marziali nel 1980 nel senso che prima di quella data c'era sicuramente un interesse una curiosità io devo anche dire che in quegli anni ero decisamente timido decisamente introverso decisamente timoroso nel senso che anche sul piano fisico ho fatto sport anche prima però sempre sport come dire la corta piuttosto che mezzo fondo per essere precisi però non con grandi assolutamente con modestissimi risultati e le arti marziali in qualche maniera mi davano come dire quel tipo di curiosità che probabilmente in quegli anni potevano essere condivise con molte altre persone fatto sta che l'interesse c'era ci arrivo in maniera del tutto casuale un amico me ne parla del suo corso di Aikido e mi accompagna a vedere una lezione la sera la lezione successiva diciamo che era un lunedì il mercoledì c'era un'altra lezione ero già sul tappeto nel senso che comunque ho visto qualcosa che in qualche maniera mi andava bene questo era l'Aikido e quello era il corso di via Zumaglia a Torino alla Cancudai gestito e portato avanti il corso dal maestro Gerbi e da lì è cominciata la mia storia con le arti marziali che dire o poi a un certo punto mi si è offerta la possibilità di di tenere il corso tenere il corso la storia è un po' lunga non non sto a raccontarla però tendenzialmente mi si offrì la possibilità di aprire il corso e in quegli anni a contrario di quello che mi sembra di vedere adesso tutti quanti volevano insegnare prima o poi oggi la vocazione all'insegnamento direi che sia abbastanza persa io non trovo tante persone che vogliono insegnare nel senso che comunque insegnare significa occupare nella propria settimana almeno due tre volte a questo in maniera costante dove non manchi mai cambita oggi questo tipo di realtà mi sembra abbastanza scomparsa io quando ho l'occasione di mi viene riferito che ci serve la possibilità di aprire un corso da un posto piuttosto che all'altro mi volto indietro per vedere chi potrebbe essere papabile e trovo soltanto risposte che non sono positive i tempi sono cambiati il mondo del lavoro piuttosto che anche gli impegni dello studio per chi è ancora studente universitario sono molto stressanti e faticosi e questo fa sì che poi alla fine non si trovi in vocazione il fatto sta che comunque inizi a insegnare inizi a insegnare l'Aikido e da lì a poco da lì a poco questa cosa assume sempre più peso insegnavo a Torino a un certo punto uno dei ragazzi che seguiva i miei corsi abbiamo già fondato la Cisei la nostra associazione di Raconigi e che veniva tutte le settimane alla lezione mi dice ma senti ma perché non proviamo ad aprire il corso su Raconigi lì grazie alla sua spinta di questo fanciullo Adriano Moretti Vico Moretti che mi ha aperto la strada su Raconigi subito dandomi un gruppo di persone interessate e anche numericamente significativo siamo partiti e quindi secondo impegno da lì a poco tornando sempre indietro con la macchina da Raconigi provincia di Cuneo quindi rispetto a Torino un 45 48 chilometri rispetto a quello che era la casa mia mi fermavo ogni tanto alla loggia per salutare Valerio e Marinella che conoscevo già da tempo e a un certo punto anche lì si è aperta la possibilità di subentrare a un insegnante di Aikido che aveva dovuto lasciare la propria attività e quindi a quel punto lì mi sono trovato impegnato tutti i giorni più ora il giorno perché poi comunque si sono aperti i costi bambini e quindi in qualche maniera quello ha cominciato ad occuparmi veramente tanto tempo fino al momento in cui appunto come prima dicevo si è posto il problema di cosa fare o mollo quello che è l'attività principale cioè la fotografia quella professionale e trasformo questa in qualcosa di più come dire solido o viceversa devo lasciare qualcosa dal punto di vista del punto di vista le motivazioni le ho spiegate prima avevo la sensazione che la fotografia non rappresentasse più una possibilità creativa per quel che era il mio modo di intendere la fotografia e credo di aver fatto la scelta giusta in tutto questo percorso incontro la prima in realtà ho fatto anche un annetto due di Kung Fu della scuola Chang però è stato un episodio non simpatico importante perché comunque tutto è importante però diciamo che l'incontro con un'altra disciplina che è diventata fondamentale per me è stato l'incontro con gli Aido nel senso che a quel punto avevamo un dojo nostro un dojo nostro in Via Legnano a Torino e chiesi a Daniel Borja di aprire un corso di Aido con noi Daniel era una mia vecchia amica aveva praticato un po' d'Aikido quindi la conoscevo da quei tempi amica intima e quindi fu naturale chiedere e fu naturale per me aderire al corso questo è sempre stato un po' il mio mondo la mia curiosità è lì ho cominciato e ho proseguito diciamo con non tantissima costanza nel senso che comunque il mio impegno rispetto allo Iaido non è quello dei primi anni ma continuo ancora tuttora adesso mi piace promuoverlo con un piccolissimo gruppo di ragazzi quindi in qualche maniera sto continuando anche dal punto di vista lì e anche dal punto di vista dell'insegnamento e anche lì questa è diventata una presenza costante del mio percorso più recentemente comunque più recentemente ma stiamo parlando sbaglierò i primi anni del 2000 nel senso che potrebbe essere il 2001 2002 sinceramente non mi ricordo mi avvicino al Jodo mi avvicino al Jodo e anche lì comincio con passione a dedicarmici e ad averne molta soddisfazione e ad oggi continuo allora adesso cosa ho ottenuto dal punto di vista dei riconoscimenti in queste varie discipline alle persone vecchie i gradi crescono quindi di Aikido sono sesto dan e sono stato nominato shian nel senso che comunque complimenti questo direttamente dall'ombu dojo di Tokyo diciamolo dall'ombu dojo questo sì tendenzialmente questo tipo di titolo viene dall'ombu poi magari qualcuno utilizza forse mi permesso di dire non a pieno titolo se fa Aikido però diciamo che casa madre l'ombu è quella che dovrebbe unicamente essere l'unica ad attrezzare questo titolo per quanto mi riguarda mi arriva da lì lo iaido mi vede occupare il grado di quinto dan diciamo che a un certo punto ecco non ho più più sostenuto esami di Aikido nel senso che comunque probabilmente ci ritornerò nel senso che dopo dopo questo periodo probabilmente riprenderò come dire la mia pratica finalizzata a un esame di grado però diciamo che quando mi sottoposi per la prima volta all'esame da sesto dan l'esito fu negativo e in quel momento lì qualcosa mi disse che dovevo prendermi una pausa evidentemente dal punto di vista degli esami non dal punto di vista della pratica perché la pratica non l'ho mai smessa non con un'intensità terribile ma comunque non ho mai smesso di lavorare con la spada però mi sono autosospeso dagli esami magari su questo tipo di cosa potrò sicuramente cambiare idea giodo invece stavo continuando senza interruzioni al di là di questo periodo e ho conseguito il sesto dan e questo nell'ultima assemblea della CIC mi è stato riconosciuto il renshi cioè che è il primo livello renshi kiyoshi anshi che è di graduazione extra rispetto a quello della graduazione i danni quindi diciamo che sono proprio anziano ok ma come mai hai iniziato tu facevi Aikido poi hai iniziato Yairo e Jodo nell'Aikido c'è comunque l'uso di armi in particolare del Ken e del Jodo per integrare o proprio per vivere esperienze in mondi diversi allora ci sono ci sono tante motivazioni che si possono dare allora da un certo punto di vista pur essendo completamente soddisfatto di quello che facevo con con l'Aikido anche dal punto di vista dell'utilizzo degli strumenti lo Ken il Joe in qualche maniera era una ricerca di senso una ricerca di senso nel senso che comunque l'avvicinarmi alla spada giapponese lo Yaito per essere precisi all'inizio poi più avanti anche l'utilizzo dello Shinken cioè della spada della spada che taglia sostanzialmente è stata proprio una ricerca di senso cioè cercare di capire non tanto se c'era una derivazione piuttosto che dei collegamenti io vi discorrendo ma in qualche maniera dire ok vediamo un attimino come questa spada come incide nella pratica di ciò che non conosco ancora lo Yaito ad esempio quando ho cominciato è quello che conosco e rendermi conto in quel momento che seppur si tratta di situazioni diverse i principi che erano alla base delle discipline alla fine sono principi decisamente sovrapponibili sarà perché sono due discipline giapponesi sarà perché sono tutte queste discipline giapponesi ma comunque il linguaggio che si utilizza per parlarne per spiegare per colloquarne è un linguaggio che comunque usa gli stessi lemmi gli stessi termini e nella sostanza esiste e molto spesso alcuni che sono come dire delle cose che si vengono si dicono perché comunque si dice che è così l'Aikido deriva dalla spada uno dice vabbè ecco nel momento che prendi una spada in mano ti rendi conto in cosa c'è questo senso di uniformità di unione di relazione e lo comprendi perché lo pratichi non certo perché te lo spiegano perché la spiegazione la comprensione non arriva da una spiegazione verbale anch'io dovessi in questo momento dire quali sono le cose che accomunano l'Aikido e l'Aido non mi ci metterei a parlarne direi pratica dopo 5-6 anni che lo pratichi capirai che cos'è che lo metti insieme prima non capisci niente prima prima stai solo pensando a qualcosa di 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 che comunque sono dei giudizi pregiudizi in senso positivo pregiudizi positivi e lo Aido sicuramente per me è stato importante così come è stato importante arrivare ad affrontare la pratica con lo shinkens con la spada che taglia che è pericolosa che è pericolosa prima di tutti per te e poi eventualmente per qualcun altro va bene se analizziamo i numeri dei praticanti italiani di Aikido Yairo e Jodo vediamo una grossa differenza c'è una grossa forbice ovviamente se 10 sono quelli che fanno Aikido forse uno sarà quello che fa Aikido e 0,01 quello che fa Jodo come te lo spieghi questo perché il Jodo in particolare perché qui oggi parliamo di Jodo non è così praticato così seguito così amato ma allora non è una specificità tutta italiana nel senso che comunque anche in Giappone la situazione non è molto diversa nelle proporzioni se non vado errato è proprio Takuya Murata che dice che c'è la metropoli del Kendo la cittadina dell'Oiaido e il villaggio le palafitte del Jodo quindi è una cosa abbastanza comune vabbè diciamo che quello che dispiace è che io trovo nel Jodo un'enorme potenzialità però non siamo mai riusciti a sfondare una come dire una indifferenza che comunque non è che sia tutta questa attenzione io credo che l'Oiaido dal suo ha il fascino dell'oggetto nel senso che la spada giapponese sicuramente rappresenta un oggetto che affascina l'arma bianca poi la spada giapponese nello specifico tutta la mitologia che ci sta dietro tutto questo fa sì che abbia facilmente un pubblico nel Jodo non so la questione sicuramente non ha una tu un punto di partenza che possa come dire essere da attrazione sulla base anche semplicemente dell'oggetto eppure eppure le potenzialità dovrebbero essere tante certo è una pratica una pratica particolare una pratica che comunque non trova immediatamente come dire il piacere di farla e vi discorrendo io credo che tutte queste attività tutte queste attività siano legate al principio di piacere in qualche maniera per quanto poi durante la durante la propria esperienza viene il momento in cui queste discipline assumono un altro significato uno comincia perché si diverte e si diverte per tante maniere e quindi quello è quella è la molla forse forse il Jodo non riesce a essere così divertente e quindi e quindi in qualche maniera non avvicina il grande pubblico eppure eppure avrebbe tanto da dare va bene senti se venisse se venisse un giovane allievo da te un giovane proprio giovanissimo nel senso che non ha mai praticato un'arte marziale e ti chiedesse un consiglio su quale via intraprendere Aikido Yaido Jodo quale disciplina tu in base a quali criteri gli consiglieresti una delle tre allora guarda una cosa che mi caratterizza e che mi ha caratterizzato sempre è il fatto di di ritenere importante che le persone facessero qualcosa non importava che cosa nel senso che credo senza vantarmi che molti praticanti che sono arrivati a fare Yaido piuttosto che Jodo e che sono partiti dall'Aikido hanno trovato in me la prima persona che li spingeva anche a trovarsi bene in un'altra disciplina sono tante le persone che hanno cominciato a fare Aikido con me e poi sono andate a fare Yaido e sono diventate diventati praticanti di Yaido a tutti gli effetti dimenticando anche l'Aikido quindi da questo punto di vista qua ritengo che non sia veramente importante spingere su una disciplina piuttosto che un'altra in linea di massima la persona deve essere messa nelle condizioni di poter decidere lui cosa fare io se viene una persona che è interessata in senso amplio al mondo del budo gli dico prova questo prova quest'altro e prova quest'altro ancora e valuta semplicemente se quello ti sto in termini assoluti oppure no e su questo il piacere una cosa che mi piace agli occhi c'è un ambiente che ti sembra confacente al tuo modo di poter stare insieme a delle altre persone e se l'insegnante se la persona che ti deve portare avanti sta parlando un linguaggio che tu capisci se ci sono tre risposte positive su questo inizialmente non è così importante troverai la tua troverai la tua nel senso che non mi metterei lì a decidere io per lui in linea di massima quello che succede è che le persone vengono in proporzione per le discipline che conoscono quindi allora chi si avvicina per l'echidoro è sicuramente in misura molto più ampia di chi si avvicina chiedendoti informazioni ecco sono come dire punti di ricerca delle persone molto distanti tra di loro l'aikido si avvicinano persone di tutte le età giovani maturi e anche più avanti nel tempo negli anni perché comunque ne hanno sentito parlare e vi discorrendo all'oiaido si avvicinano tante persone non giovanissime non giovanissime giovani ma non giovanissime interessate agli aspetti che potrebbero essere l'attrezzo in quanto tale cioè questo oggetto che non a caso la cultura giapponese riveste un'ora particolare comunque un oggetto sacro non a caso e persone che stanno cercando perché ne hanno sentito parlare magari per fare una ricerca interiore come dire il nemico è interno non è un nemico di fronte non è un competitor e il giodo ad oggi le persone ci arrivano sulla scorta di qualche cos'altro che hanno fatto è difficile e c'è un problema di comunicazione probabilmente nel senso che non riusciamo a individuare bene come arrivare a altre tipologie di praticanti e quindi per certi versi il giodo forse viene visto un po' come completamento un completamento finale di un percorso quindi ci si arriva con un'età abbastanza avanzata ragazzi giovani sarebbero molto importanti ma non ce ne sono molti vista la tua grande esperienza in materia che cosa suggeriresti per ampliare il mondo del giodo per far sì che ci siano più più credo più interessi il problema sia comune a tutte le discipline se si vogliono attirare giovani ci dovrebbero essere giovani insegnanti cioè persone giovani che portano questo tipo di disciplina il problema è della formazione come fare a formare persone che siano in grado di dare comunque degli strumenti forse bisognerebbe avere il coraggio di provarci in ogni caso in fondo in fondo quando io ho cominciato a insegnare il giodo non è che avessi tutta questa esperienza eppure quelli sono stati anni in cui avevamo numeri scusami numeri decisamente interessanti forse bisognerebbe osare e dare nelle mani di persone giovani questo tipo di incombenza perché parlano un linguaggio simile perché comunicano in maniera simile perché cercano una fisicità che tu persona di 60 anni come magari non ti senti di esprimere non che non sei capace di esprimere ma non ti senti di esprimere perché comunque la tua ricerca è diversa cioè io per quanto sia fisico nel senso che comunque io insegno Aikido e lo faccio con una tipologia d'approccio che definirei fisica Aikido è un discorso a parte però il Giorgio comunque dove comunque la parte fisica è decisamente importante però non ho come dire lo stesso approccio che potrebbe avere un ventennio venticinquenni tutte queste cose perché perché comunque la fisicità che uno dimostra a quell'età è sicuramente diversa perché comunque la mia ha già una sovrastruttura che è quella mentale cioè quella che comunque attraverso questa cosa qui ci si debba trovare degli altri significati un giovane non cerca quello un giovane non cerca risposte sul suo modo di essere sarebbe molto strano arriveresti a una tipologia di giovani che è per fortuna decisamente decisamente sottorrappresentata se tu vuoi arrivare a un pubblico di giovani più ampio non puoi che non fare sì che si parli lo stesso linguaggio ma non posso parlarlo io deve parlarlo a un loro coetaneo su questo le discipline marziali dovrebbero fare un'azione di formazione importante perché dovremmo prendere qualche nostro giovane e dirgli ok io ti formo perché tu debba fare questo tipo di lavoro cioè tu debba andare a portare la nostra disciplina e allora forse bisognerebbe investire su alcuni giovani che abbiano questo tipo di situazione rappresenti un po' questa situazione e decidere che ad esempio uno dei luoghi in cui vanno ad agire è il mondo della scuola quale consiglio daresti a un giovane praticante giovane chiaramente di pratica praticante di Giodo quale consiglio per evolvere nella maniera corretta è una domanda è una domanda difficile a corrispondere secondo me la cosa importante è fare esperienza fare esperienza sicuramente quella di avere un insegnante è importante cioè ci mancherebbe solo è la base quella però fare esperienza fare esperienza allora sul differenziare questa esperienza con tanti insegnamenti diversi all'inizio questo può generare confusione dipende un po' dalle proprie attitudini personali però sicuramente quella di fare chilometri perché poi alla fine della fiera tutti noi siamo progrediti gli anziani chiamiamoli così sono progrediti perché hanno messo l'automobile nel boss quello che era la pezzatura che serviva e hanno fatto chilometri se manca questo oggi è un problema è vero che a casa tua oggi è tanta gente di qualità però il viaggio è un'esperienza che ti trasmette dei contenuti e che ti dà quel piacere che forse servire non so se sono stato esaustivo sì sì assolutamente sì 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 io ho letto un articolo tuo in cui parlavi chiaramente di Aikido e in particolare del Randori se ho capito bene dicevi che la forma codificata va bene ci deve essere bisogna rispettarla ma fino a un certo punto da un certo punto in poi che può essere proprio il Randori dove tu se non è codificato nel senso che un attacco improvviso da parte del tuo avversario devi sperimentare qualcosa di tuo di personale questo nello Aikido e soprattutto nel Jodo non è possibile perché lì la forma Kion Hokata sono completamente codificate come è possibile coniugare le due cose credo 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 che in questo senso in questo senso bisognerebbe pensare come dire al Koryu come luogo in cui tu esprimi un qualcosa di diverso nel senso che il Seitei contiene le stesse identiche cose nel senso che comunque bisogna pensare alle nostre discipline come uno spartito musicale che sta interpretando il problema è che devi interpretarlo nel senso che tu puoi conoscere a meno a dito lo spartito della nonna di Beethoven ma se la dirigi tu non c'è anima e non c'è assolutamente niente ecco il Seitei è lo spartito che prima di riuscire a interpretare ci vuole tantissima schienza e che sia anche leggibile questa cosa diventa difficile il Koryu sia di Aido che di Jodo secondo me è molto più ludico ci si diverte di più a farlo perché in qualche maniera intanto è un pelino meno codificato e quindi qualunque cosa fai in qualche maniera non dico che va bene ma ha una sua ragione d'essere ecco il Koryu è uno degli aspetti in cui come dire la parte la parte ludica e la parte creativa delle persone viene fuori in qualche maniera può vedersi può sperimentarsi è una riflessione che bisognerebbe fare nel senso che ma credo che in qualche maniera si stia cosa facendo e che in qualche maniera si stia operando prima di arrivare a studiare un pelino di Koryu devono passare anni e anni e anni di pratica delle Seitei sia di Aido che di Jodo oggi invece viene proposto molto prima perché perché credo che in qualche maniera se ne sia intuita una potenzialità che il Seitei nella sua struttura non ha sviluppata completamente quindi il Koryu potrebbe essere il luogo del come dire del caos che in qualche maniera trova un ordine quindi nel senso etimologico di Rando riprendere il caos o dare un ordine al caos ecco che in qualche maniera lì potrebbe esserci un pezzo della ricerca e proprio su questo argomento oggi questa mattina Murata Sensei in un webinar della CIC proprio sul Jodo a un certo punto ha detto che la sola forma non basta alla forma bisogna metterci del contenuto e tu sai bene che forma di contenuto sei d'accordo cosa ne pensi che tipo di contenuto soprattutto pensi ci voglia sono d'accordissimo sono d'accordissimo le nostre discipline Iaide e Jodo corrono un grande rischio di essere di maniera cioè di essere formalmente impeccabili manieristicamente niente da dire ma non interpretate non interpretate cioè non metterci qualcosa di personale all'interno nel senso che veramente bisogna pensare che la tua espressione non è identica alla mia ma a parità di livello cioè se facciamo l'esempio con la musica classica io normalmente faccio molto spesso questo esempio qua cioè von Karajan dai tempi della sua giovinezza ai tempi della sua maturità interpretava la nonna di Beethoven con diversi minuti di differenza stiamo parlando di minuti cioè un direttore d'orchestra che dirigeva la stessa la stessa sinfonia con diversi minuti di differenza e cos'è questa roba qua se non interpretazione quindi un kata di aido un kata di giodo se vengono interpretati come come dire A più B più C più D cosa ci stanno trasmettendo se io invece voglio voglio trasmettere un'emozione se voglio mettere in scena è una messa in scena un kata di aido piuttosto che un kata di giodo è una messa in scena ma per mettere in scena devi essere capace di mettere questa cosa perché se no al cattivo attore si tirano i pomodori invece al grande attore fa gli applausi a scena aperta ed è tutto lì cioè si riconosce si riconosce non è così impossibile da riconoscere bisogna stare attenti bisogna stare attenti che nell'insegnamento non si stereotipizzi troppo e che in qualche maniera non sia cinque gradi a sinistra cinque gradi a destra il passo deve essere lungo così il passo deve essere lungo così perché quella roba lì in qualche maniera ci limita ma a maggior ragione a maggior ragione come dicevo prima laddove il seitei ci chiede di essere attenti a quella rigore forse lasciarsi andare ogni tanto a un'applicazione del proprio lavoro nella scuola antica ci permette di esplorare quello che dentro di sé si anima rispetto a quello che sta facendo questa è un po' la mia opinione grazie mille grazie mille l'ultimissima domanda al volo qual è il tuo segreto il segreto del tuo successo come dire questo questo credo questo credo sono io non sono modesto io credo di avere una discreta dose di talento nel senso che comunque ci sono persone che sono fortunate hanno una discreta dose di talento però il talento senza rigore non serve a niente io in tutti questi anni ho incontrato un sacco di praticanti un sacco di allievi sono avuto un sacco di persone con talento enorme ma non con sufficiente disciplina da poterlo coltivare ecco la mia caratteristica è questo mondo è il mondo nel quale io sicuramente mi disciplino più di ogni altro e quindi quel briciolo di talento che ho prova il modo per esprimersi nel modo migliore grazie mille Nino Sensei sei sempre un grande grazie ancora e buon proseguimento nonostante il periodo non è dei migliori torneremo a incontrarci in uno spazio diverso assolutamente va bene grazie mille grazie ancora grazie per l'occasione ciao grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti